Visite dei parenti alle RSA Residenze Sanitarie Assistite, si attendono linee guida nazionali ben precise con la speranza di aprire in fretta ma in sicurezza, essendo a tutt'oggi ancora fermi al DPCM di marzo scorso, di fatto ancora in vigore, dove si prevede che siano le direzioni sanitarie delle singole strutture a impostare le modalità di apertura. Auspichiamo e speriamo che quanto prima arrivino delle indicazioni, delle disposizioni normative precise e chiare per la riapertura delle nostre strutture e quindi per far accedere in particolare insomma i familiari per un incontro più ravvicinato con i propri cari. Al momento queste disposizioni non ci sono, ciò che auspichiamo è che le disposizioni siano norma imperativa e quindi non che da un lato ci troviamo con il divieto e dall'altro ci arriva una raccomandazione ad aprire perché questo ci lascia altrimenti in un limbo in cui le strutture hanno una discrezionalità che poi porta anche ad una responsabilità e che siano effettivamente poi gestibili e attuabili perché faccio un esempio se poi a carico dei nostri enti vengono previsti adempimenti tipo a tutti, a chi accede deve essere fatto il tampone, è registrato sul portale regionale, il tampone può essere effettuato da personale sanitario quindi infermiere o medico le strutture non sono in grado di garantire questo. Chieste a gran voce dunque linee guida omogenee per tutto il territorio nazionale che risultino essere gestibili e attuabili.